Quando si inizia a parlare di calcolatori elettronici, di computer, di elaboratori, inevitabilmente si finisce per parlare dell'architettura di von Neumann. Come possiamo leggere in questo wiki, con l'espressione architettura di von Neumann o macchina di von Neumann, ci si riferisce a uno schema di progettazione di calcolatori elettronici che prende il nome dal matematico John von Neumann. Il modello di von Neumann è quanto di più prossimo alla realtà, alla reale struttura di un calcolatore e può essere considerato in via esemplificativa il modello di base di tutti i calcolatori elettronici. Proviamo a ragionare in questo modo. Facciamo un parallelismo uomo-macchina, quindi all'interno di un nostro blocco note scriviamo uomo-macchina, dove per macchina intendiamo questo calcolatore elettronico, un sistema di elaborazione. Proviamo ad analizzare degli ingredienti che troviamo nell'uomo e che troviamo nella macchina utilizzando dei nomi che saranno quelli che ci accompagneranno nel percorso di questa analisi. Quando parliamo del cervello dell'uomo, ci possiamo riferire a quella che è comunemente chiamata SIPIU, cioè l'unità di elaborazione di una macchina. Quando parliamo di memoria dell'uomo, parliamo della memoria all'interno anche di una macchina. Abbiamo tutti quanti la percezione che all'interno del nostro computer vi sia una memoria, un hard disk, una RAM, che sono parole che in qualche modo già conosciamo, o che comunque nel gergo comune vengono utilizzate, che rappresentano comunque la memoria di una macchina, cioè quella parte in cui conserviamo delle informazioni che possiamo andare a riprendere quando ci servono. Beh, l'uomo interagisce con il mondo attraverso i cinque sensi, che sono nient'altro che i dispositivi di input di una macchina, che possono essere appunto la tastiera o un mouse. Abbiamo poi le nostre gambe, le braccia, la voce, che non sono nient'altro che dei dispositivi di output, cioè un qualche cosa che ci consente di interagire con il mondo circostante e quindi compiere delle operazioni. Abbiamo qualche cosa, il sistema nervoso, abbiamo l'apparato circolatorio, l'apparato respiratorio, e via dicendo. E questi cosa sono? Beh, quelli che potremmo chiamare come il bus di sistema all'interno di una macchina, cioè ciò che mette in comunicazione tutti quanti questi altri componenti. Questi qui non sono nient'altro che i modelli che in qualche modo vengono identificati all'interno della macchina di von Neumann. Cioè la macchina di von Neumann ci dice che in qualche modo un sistema di elaborazione, un calcolatore elettronico, è costituito da un'unità di elaborazione, quindi da un cervello, una parte che memorizza, archivia i dati, e ci consente di prelevarli quando necessario, dei dispositivi di input, che sono paragonabili ai nostri cinque sensi, con i quali acquisiamo informazioni, dei dispositivi di output, attraverso i quali produciamo dei dati, o produciamo delle operazioni, e un sistema che mette in collegamento tutti quanti questi vari componenti, cioè il bus di sistema. Grazie. 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 Grazie.